Tutto si decide oggi. Ora noi o risorgiamo o cederemo un centimetro alla volta. Perché qui chi soffre è un cuore. Ma non averlo coi nemici. Tutto si decide oggi. Tu ama chi è arrestato. Ma prova indifferenza per chi è solo passato. Cerca di fare il bene e la giustizia. Si alto forte e lascia un segno al tuo passaggio. E sconfiggere la morte. Perché quello che sei stato e quello che sarai. Non è scritto nel destino ma in tutto ciò che fai. E' tutto qui. Tutto si decide oggi. Questo è essere una squadra, signori miei. Perciò o noi risorgiamo adesso... come collettivo o saremo annientati individualmente. E' tutto qui. Allora... Vai coach. Che cosa volete fare? Vogliamo... Che cosa... Che cosa volete fare? Grazie a tutti.